Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. Sull'UFPL per lavori possibili code e ralentamenti tra lastra Signa e ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montilupo e ginestra con restringimenti. Percorsi alternativi sulla SP12 o per viaggi più lunghi sull'autostrada A11. Il traffico scorre regolare sulla rete autostradale della regione toscana. In A1 segnaliamo nebbia tra Rocco, Bilaccio e Aglio. A Firenze in via della Vigna Vecchia giovedì 20 giugno dalle 7 alle 18 sarà in vigore un divieto di transito da via dell'Acqua e via dell'Isola delle Stinche. Morsi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!